sono ancora le 9 del mattino mamma mia non riesco a capire come è possibile il giorno della partita il tempo non passa mai mamma mia ragazzi buongiorno sono speaker mayra oggi giorno della partita guardando l'orario sono già le 9 dobbiamo andare a fare subito colazione tempi strettissimi qui di fronte a me il santuario di cristo re ci troviamo qui in uno dei posti più panoramici e più belli di tutta messina io non mi nascondo che venire qui prima della partita mi rilassa veramente veramente molto è un piacere la tipica colazione messinese per me deve essere rigorosamente con granita e brioche ragazzi guardate che piacere questo oggi facendo una passeggiatina incontrato tre ex calciatori del messina romolo rossi maurizio miranda e ghettano beninato oggi allo stadio sicuramente certo sì certo le abbiamo visto siamo qua apposta per partire ci stiamo preparando e allora andiamo allo stadio eccoci qui tifosi del messina siamo appena arrivati allo stadio e oggi uno di voi avrà la possibilità unica grazie a star casino di diventare speaker per un giorno e allora andiamo a vedere subito di chi si tratta ciao ciao piacere vincenzo piacere mirco sei contento oggi avrei la possibilità unica di condividere assieme a me momenti importanti della partita come la lettura delle formazioni vari annunci che emozione è stata perché quando l'hai saputo sicuramente un'esperienza stimolante ed eccitante non immaginavo di vincere questo contest e sono molto felice di essere qui presente insieme a te per risultare per i nostri beniamini sperando di fare gol e sperando che messina vinca perfetto allora ti faccio fare adesso un tour dello stadio hai visto qui è grande i tempi della serie si riempiva tutto erano bei tempi e bei tempi speriamo che torneranno perché no alla fine essere in banchina qualcuno la vede come una cosa brutta mentre invece in determinati momenti può risultare fondamentale c'è capito risulta un calciatore che in un momento di difficoltà della partita ha quella responsabilità di entrare in campo di fronte tutte queste persone che in base alle c'era determinazione di fare bene e cambiare le sorti della partita ora vedi c'è fantastico tu pensa essere in banchina dopo che ci sono tutte queste persone dipende il momento della partita sarà una colgia sapete qualcuno magari può pensare che fare lo speaker sia un lavoro ma principalmente deve essere passione il calore lo deve avere dentro e devi cercare di trasmetterlo al pubblico la tifoseria e io vi posso dire che essere qui a messina forse è una delle cose più belle che ci siano il calore dei tifosi la gente qui si vive il calcio ed è veramente stupendo ogni volta che annuncio la formazione annuncio i gol sentire il boato il ritorno tutti assieme siamo veramente forti scenderemo in campo con gli occhi della tigre i nostri colori saranno il giallo come il sole il rosso come il cuore noi siamo i padroni dello stretto dal 1900 noi siamo il messina ladies and gentlemen da questo momento in campo per noi bianco scudati forza ragazzi forza messina ecco qui che abbiamo il grande lillo setteci amici di star casino sport e la nostra giornata termina qui è stato un grandissimo piacere trascorrerla in vostra compagnia a presto forza messina a presto Grazie a tutti.